Alcuni manifesti con minacce di morte indirizzati al procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro e un maresciallo dei carabinieri sono apparsi nelle scorse ore nel centro storico della città. Procuratore Vaccaro è scritto in uno di questi manifesti visto che mi costringe a diventare un assassino e ti ammazzerò. I piccoli manifesti sono stati attaccati nel tardo pomeriggio di ieri ad alcune alberi che si trovano lungo la zona pedonale del capoluogo Dauno. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri che stanno anche verificando le immagini delle telecamere di sicurezza che si trovano lungo l'isola pedonale di Foggia che potrebbero aver registrato qualcosa di utile alle indagini. Abbiamo sollecitato più volte il ministro dell'interno Luciana Lamorgese per organizzare e attivare interventi straordinari in terra di Foggia per contrastare la criminalità organizzata. Ci risiamo. I manifesti con minacce di morte rivolte al procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro sono comparsi su alcuni alberi del centro della città. Così il senatore pugliese Luigi Vitali componente della commissione antimafia commenta le minacce ricevute dal procuratore capo di Foggia Vaccaro e da un maresciallo dei carabinieri. Tutto questo, ha concluso ancora il senatore Vitali, non è un gioco. Insisto rivolgendomi direttamente al ministro Lamorgese. Intervenga immediatamente. Intervenga immediatamente.